Mi faccia dare due numeri. L'Unione Europea partecipa ai costi di gestione dell'immigrazione clandestina del nostro Paese per 91 milioni di euro. Il costo a bilancio, nel bilancio dello Stato, Repubblica Italiana, sostenuto dai cittadini italiani per i flussi di immigrazione, ammonta a 4 miliardi e 700 milioni di euro. 91 milioni, 4 miliardi e 7. E sono tutti i soldi che vengono spesi dagli italiani. Quando arrivano navi tedesche, della marina tedesca, che sono inquadrate nel sistema che dovrebbe impedire il flusso di migranti, caricano i migranti e li sbarcano poi nei porti italiani, beh, non veniamo a raccontare che tutto questo è normale, perché quello è territorio tedesco. Cioè, stiamo parlando di un sistema che non è in grado di gestirlo e, dall'altra parte, gli scafisti fanno affari. Se si vuole realmente fermare il sistema, non voglio neanche immaginare che si possa postulare che non siamo in grado di fermare gli scafisti sul territorio libico. Allora, aspetti che devo andare in pubblicità.